lunedì 29 gennaio 2018 è sempre un faboloso presente dal quale imparare qualcosa mantieni una mente aperta e non precluderti nessuna esperienza sei qui per vivere e sperimentare la nostra missione sulla terra qual è il senso della vita le infinite domande che si pone l'uomo costantemente che ci faccio io qui chi sono cosa volete da me a tutte queste domande c'è una risposta che può calzare bene ama nutri la tua anima e resta in pace si sembra quasi una funzione religiosa tutta la vostra vita è pilotata dall'amore è proprio il motore che spinge l'amore per noi stessi l'amore per gli altri le passioni che noi coltiviamo facciamo tutto perché parte dal cuore con interesse con amore siamo su questa terra per imparare per evolverci siamo un'anima che sta vivendo un'esperienza umana attraverso il corpo come già detto in una puntata precedente il corpo è la nostra macchina il nostro veicolo per vivere in questa terra e grazie a questo veicolo noi possiamo fare un sacco di esperienze e le esperienze che facciamo materialmente fisicamente rimangono dentro serrate e nel corazon e queste fanno crescere il nostro amore verso determinate cose e mantenendo una mente aperta noi possiamo spulciare idee in giro possiamo capire cose alle quali non avremmo mai creduto possiamo ampliare le nostre conoscenze crescere e non ne intendo in altezza vi elevate spiritualmente e mentalmente potrete insegnare potrete condividere con gli altri che è una cosa bellissima e meravigliosa alle volte quando qualcuno trova qualcosa di interessante lo tiene per sé geloso questo è il mio segreto il mio tesoro ma sarebbe una cosa carina poterlo insegnare anche agli altri perché è una cosa che vi dico sempre quando qualcuno sta bene sta bene anche chi gli sta vicino e se tutti siamo bene fate un regalo all'umanità non siate gelosi delle vostre conoscenze non impeditevi di poter affrontare nuove esperienze non bloccatevi non mollate come dicevo settimana scorsa sperimentate sbagliate e riprovate perché poi quando questa macchina svanisce vi rimane la ricchezza che avete coltivato all'interno di voi stessi il vostro spirito e la vostra anima saranno così colmi che esploderete come un raggio di sole anche quando sarà la vostra ora ma adesso non pensiamo ci pensiamo a vivere questo momento qui ora adesso every day is a new surprise all the good vibes besitos e beh è lunedì e oltre al caffè vi serve la musica giusta open your mind usura e io so che Luciana mi segue Gabriella mi segue e pure Valentino mi segue mwah